Riunito in seduta straordinaria su richiesta dal Presidente della Provincia, il Plenum del Consiglio Provinciale ha approvato con 18 sì, 16 no e una stensione la riduzione da 9 a 8 componenti della Giunta Provinciale, con l'attribuzione allo stesso compaccio delle competenze su salute, banda larga e cooperative, prima assegnata a Thomas Widman. Nei confronti dell'ex Assessore, ha spiegato il Presidente, sarà verificata una perdita di fiducia. Gruppo Verde, Timca e Partito Democratico, liste civiche, hanno criticato che venisse riproposta la stessa maggioranza ad inizio legislatura e che con pace ha sumesse le deleghe ad interim senza considerare un altro Assessore alla Salute né dire come voleva gestire il settore. Fratelli d'Italia ha lamentato che la Lega Salvini non cogliesse l'occasione per chiedere maggiori competenze valorizzando la componente italiana in Giunta e chiesto di andare a nuove votazioni, così come Perspective für Südtirol Freiheitlichen e Südtiroler Freiheit hanno evidenziato in generale la politica poco efficace della Giunta riguardo a temi che preoccupano i cittadini. Enzian ha segnalato che il compaccio avrebbe dovuto agire prima, essendo a conoscenza già da un paio di anni delle dichiarazioni di Widman. Tutte le opposizioni hanno votato contro la proposta di riduzione tranne il Movimento 5 Stelle, astinutosi ritenendo che fosse mancato il coraggio di una mozione di sfiducia vera e propria e che dalla Giunta sarebbe dovuto essere escluso anche l'Assessore Vettorato. Da parte della maggioranza Forza Italia e Lega Salvini hanno evidenziato che le valutazioni su nuove competenze sarebbero state fatte in un secondo momento e l'SVP ha difeso il lavoro della Giunta che resta concentrata su quanto necessario ai cittadini e ringraziato Widman per quanto fatto. L'ex Assessore ha ribadito che il suo operato ha evidenziato che gestire la sanità ad interim o affidarla ad un tecnico sarebbe stato un danno per la provincia. Compaccio ha ribadito che in merito a nuove assegnazioni si sarebbe deciso in un'altra seduta.